Allora la registriamo nella stanza dell'hotel perché sono in giro per il primo campiello e quindi insomma la scenografia è questa. Poi oggi il 26 giugno è anche il mio compleanno auguri 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 42 anni vissuti in modo assolutamente faticoso e niente così ve lo dico sono le 2 e 05 e siccome il buongiorno è qualcosa che in realtà mi lega come un cordone umbilicale allora non potevo non farlo e questa sera non potevo non raccontare il terrore che ho di abituarsi cioè di abituarsi all'orrore che la Sea-Watch gallegge ormai in giro sul limite delle acque territoriali italiane con a bordo 40 circa disperati si perde tra le piccole notizie di cronaca cazzo va nelle colonnine quelle dei gatti delle donne tettute quelle delle cose che interessano praticamente quasi nessuna notizia che è scivolata nel cassetto delle notizie poco importanti quelle praticamente inutili che non hanno nulla da dire non hanno nessun effetto sull'opinione pubblica come dicono questi grandi giornalisti sulle persone ormai abituate si abituate a qualche disperato usato come feticcio per raccattare vuoti pensateci bene qualche mese fa una situazione del genere avrebbe provocato una rivoluzione per una nave bloccata dico lì in mezzo al mare avremmo avuto gente in piazza indignazione persone dappertutto urlano ogni via persone disperate voci alzate invece oggi niente niente io penso che le persone per sopravvivere ai loro piccoli dolori imparano fin da subito ad abituarsi a tutto la chiamano resilienza ma in fondo è un'abitudine anche le notizie peggiori che serve per non soffrire troppo ci siamo abituati a disperati sparsi in mezzo al mare perché ne abbiamo visti a decine oggi ci sembra tutto assolutamente normale tutto dentro le cose che devono succedere tutto nelle possibilità che avvengono semplicemente ci abituiamo alle peggio cose facciamo di tutto per fingere che vada tutto bene riusciamo a rendere normali cose che sono letteralmente mostruose riusciamo a rendere normali cose mostruose ci indignavamo fino a qualche settimana fa per le stesse cose che oggi accadono quotidianamente così una quarantina di persone anche alleggiano nel mediterraneo e noi crediamo per scontato che sia una cosa normale come se la bestialità del ministro dell'inferno salvini possa produrre veramente l'abitudine alla ferocia alla disumanizzazione alla guerra contro gli ultimi io dico una cosa da mettersi le mani nei capelli buon mercoledì grazie grazie grazie